Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in cucina con Raffi. Ragazzi oggi ricetta fit, delle buonissime briochine leggere. Come già state vedendo qui c'è una buonissima banana che adesso andremo a schiacciare con una forchetta. Una volta che abbiamo schiacciato la banana adesso andiamo a inserire 20 grammi di dolcificante e poi andiamo a inserire due cucchiaioni di yogurt e amalgamiamo il tutto. A questo punto andiamo a inserire 60 grammi di farina di avina, un cucchiaino di lievito per dolci, amalgamiamo ancora e per finire un tocco in più, leggere sì però con un po' di bontà, le nostre cioccolate converse, quanto ne vogliamo ne mettiamo. Una volta inserito tutti i nostri ingredienti nel nostro impasto prendiamo, io ho preso la griglia della friggitrice ad aria perché la andremo a fare in friggitrice ad aria. Adesso prendiamo il nostro composto e lo sistemiamo sulla carta da forno, ovviamente separati. A questo punto una volta sistemate le nostre briochine con questo impasto ne vengono tre, ragazzi. Inseriamo dentro, vediamo, 180 gradi per 12 minuti. Ebbene ragazzi abbiamo cotto le nostre briochine fit, guardate un po' che spettacolo, guardate che sofficità, che ne dite? Sono buonissime e sono leggerissime. Detto questo non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!